Ok ragazzi, non sono riuscito a togliere la scheda, quindi toglieremo tutti questi cavi che ci sono attorno al cinescopio, trappogli anche la bobina e poi vedrò se riuscirò a togliere la scheda. Dunque, incominciamo da qua. Togliamo. Voilà. Plastica vecchia. Ok. Ok. Scusate se non si vede niente. Ok. Voilà. Mamma mia che pasticcio qua. E lo togliamo da qua. Ok. Oh, stateli buoni eh. Poi c'è un gancio che bisogna togliere. Qua. Che non si toglie. Ecco. E altri fighi che abbiamo ricavato. Più che altro dobbiamo togliere questo qua che è il filo della corrente. che è ancora integro. Molte televisorie che ho visto ce l'avevano tagliato. Ah. Oh. Dunque. Abbiamo fatto un pasticcio sul balcone. E adesso il tubo cattolico ovviamente lo toglievo da solo. Lo togliamo la bobina adesso. La bobina è anche facile da togliere. Ok. Ho tolto il pezzo di metallo. Lì si vede il segno che teneva la bobina ferma. Adesso dobbiamo togliere proprio tutta la bobina. Ok. Voilà. Ho tolto la bobina. Che oltretutto è molto bella questa bobina. E anche tutti quei cosi lì. Ho dovuto anche romperla. Comunque. Adesso dobbiamo togliere la scheda. Ecco. Sto riuscita a scattarla dal fondo. Adesso. Eccola qui. La nostra scheda. Eccola lì. E questa è la nostra scheda. Adesso praticamente qua è rimasto solo il tubo cattolico. Togliamo ancora questo filo della corrente qua. arlo via. Allora. Eccolo qui. Y'asseg